Grazie a tutti. La cemma alla regione, i soldi ci sono, ora paghi. I costruttori edili tornano a protestare con frattura in cassa a 26 milioni di euro, le imprese alla canna del gas, intanto i lavoratori della GAM pronti a una nuova mobilitazione. Edifici antisismici, la proposta del Movimento 5 Stelle. A Campobasso i consiglieri comunali chiedono di investire nella sicurezza, vanno messi a norma tutti gli uffici pubblici, dicono e non solo le scuole. A Belmonte il ministero dà il via alla galleria. Telemolise a Napoli con Verdone Albanese. L'abbiamo fatta grossa il nuovo film prodotto da De Laurentiis nei cinema in tutta Italia da giovedì. Ieri la presentazione con i protagonisti. La giornata dello sport spostata al Savoia, il gran galà degli atleti molisani trasferito in teatro per motivi di capienza. Venerdì le premiazioni dei migliori in ogni disciplina, ospiti Lucchetta e Pancalli. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Tg delle 14. In apertura c'è la cronaca giudiziaria. È partito oggi a Larino il processo a carico di Don Marino Genova, l'ex parroco di Porto Cannone, che deve rispondere di abusi sessuali su una minore. Il dibattimento è stato rinviato al 19 luglio, quando tra i primi testi ad essere ascoltati ci sarà proprio la presunta vittima. Sentiamo Manuela Iorio. È partito oggi a porte chiuse il processo a Larino a carico di Don Marino Genova, l'ex parroco di Porto Cannone, che deve rispondere di abusi sessuali su un minore. La vittima si chiama Giade e da quando aveva 13 anni ha subito le violenze del sacerdote, fino ai 16 anni quando ha trovato la forza di reagire raccontando tutto a una corista, che ha riferito la ghiacciante storia a Monsignor Gianfranco De Luca. È stato proprio il vescovo a prendere i primi provvedimenti, sospendendo a Divinis il sacerdote che improvvisamente lasciò il paese. Era novembre del 2012, oggi per la prima volta dopo più di tre anni Giada ha rivisto in tribunale Don Marino. Per quasi un'ora il tempo tecnico dell'udienza sono stati nella stessa stanza, pochi metri a dividerli, gli sguardi inevitabilmente si sono incrociati. Non è stato facile per lei che oggi ha 20 anni studia pianoforte al conservatorio e cerca di rifarsi una vita. È stata un'udienza tecnica in cui il Collegio di Giudici Tutte Donne, presieduto da Maria Paola Vezzi, ha ammesso i testi delle parti e rinviato l'inizio del dibattimento al 19 luglio, quando saranno ascoltati otto testimoni del PM, tra cui anche Giada, difesa da Arturo Messere. L'avvocato, il prossimo 2 febbraio, dovrà discutere davanti al giudice anche l'opposizione presentata contro il PM Venturi, che aveva stralciato il fascicolo sugli abusi nella parte in cui Giada aveva superato i 14 anni, ritenendo che da quel momento in poi subentrasse il consenso dell'adolescente, tesi ovviamente fortemente contestata dalla parte civile. La storia di Giada all'epoca fece molto scalpore. Il paese in un primo momento si schierò a favore di Don Marino, accusando Giada di essersi inventata tutto. Dovette intervenire lo stesso vescovo. Un'ulteriore violenza per la ragazza, che è riuscita ad andare avanti e a superare le cattiverie e le maldicenze. Del suo caso si interessarono anche le Iene con Giulio Golia, che la intervistò proprio a Portocannone. Paolo Overi, commercialista termolese amico e consulente di Frattura, già nominato liquidatore della Fimolise Sviluppo e Servizi, è impredicato per la poltrona di nuovo amministratore della finanziaria regionale, ma ha un problema con la Banca d'Italia che potrebbe costargli la nomina. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Nomine, 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 si prega e si vive aspettando l'incarico che puntualmente arriva. specie se si è stati vassalli fedeli del governatore di Turno, ma chi vive di nomine spesso può anche morire, metaforicamente sia chiaro, di nomine. E' il caso di Paolo Veri, da sempre fedele amico alleato e consulente personale e retribuito di Paolo Frattura in mille vicissitudini. Attualmente Veri è il liquidatore di Fimolise Consulenze e Servizi SRL, ma il suo sogno nel cassetto, diciamolo subito, è quello di andare al vertice della Fimolise S.P.A., ovvero la finanziaria della regione, con centinaia di milioni di euro da gestire. E per lui, con la sua esperienza, sarebbe l'Eden professionale. Ma c'è un piccolo problema, un incaglio o inconveniente, ignorato, chissà se volutamente o no, che potrebbe costargli la nomina già promessagli dal suo amico Frattura. Si tratta della sanzione che la Banca d'Italia gli ha combinato in qualità di ex componente del Consiglio d'amministrazione della banca Arner S.P.A., 11.500 euro che probabilmente, per Paolo Veri, sono quattro spiccioli, ma ne potrebbero condizionare o minare la sua idoneità a reggere il timone di una finanziaria, soprattutto se, per la nomina al vertice della Fimolise, è previsto il parere di Banca Italia. Da sottolineare che la banca Arner è stata commissariata e venduta alla Finint a fine 2014, anche per le gravi irregolarità riscontrate dall'autorità di vigilanza. Il primo correntista della discussa banca di Milano era Berlusconi, con lui anche Previti e Ciancimino. Insomma, una bella compagnia. E Paolo Veri è stato uno dei suoi ultimi amministratori. Ma torniamo alle nomine appena sfornate, o meglio, alle ultime di giornata. Quella di Luigi Dorsi, ingegnere di Isernia, coordinatore regionale di Centro Democratico, lista d'appoggio a Frattura, che è stato appena nominato nuovo direttore generale di Molise Acque. Insomma, o amici e consulenti, o alleati elettorali. Le nomine di Frattura non rompono la tradizione della parrocchia. Se non si va ammessa la domenica, niente comunione. Riteniamo gravissimo l'abbandono e il silenzio della politica e delle istituzioni regionali sulla vertenza. I lavoratori della GAM, riuniti in assemblea con i sindacati, tornano a far sentire la loro voce. Troppe proseguono le dichiarazioni di intenti sul rilancio dell'azienda, a cui non sono mai seguite proposte concrete, credibili per i lavoratori. L'assenza di idee per un rilancio della GAM rischia di compromettere anche il percorso dell'area di crisi. I lavoratori sono tornati a chiedere al governatore Paolo Frattura di mantenere gli impegni presi a loro tutela e di passare a una fase operativa che definisca un piano di rilancio della GAM e della filiera avicola. In assenza di riscontri e soluzioni hanno annunciato una nuova mobilitazione con presidi davanti alle sedi del Consiglio regionale e della Giunta. Dall'Assemblea regionale dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori ed Ili Molisani, arriva la denuncia. La Regione ha ricevuto 26 milioni di euro e non paga le imprese, ha detto il Presidente Corrado Di Niro. Presto i decreti ingiuntivi. Sentiamo. L'emergenza del blocco dei pagamenti alle imprese per la ricostruzione e per altri appalti dai dissesti ai fondi in perenzione, argomento su cui l'ACEM, l'Associazione Costruttori ed Ili Molisani, si è confrontata in assemblea. Una situazione grave, quella che riguarda il settore, ha denunciato il Presidente degli Edili, Corrado Di Niro. La Regione ha ricevuto dal Governo a fine dicembre una tranche di 26 milioni di euro per la ricostruzione, ma la somma ancora non viene liquidata alle imprese allo stremo. A fine agosto, principi settembre, è stata liquidata la quarta tranche alle imprese. Di lì c'è stato detto dal Presidente, iniziate i cantieri, cominciate, lavorate, così appena rendicontiamo avrete il pagamento. Bene, noi ci abbiamo messa tutte, siamo ripartiti, nell'arco di due o tre mesi abbiamo rendicontato altri 26 milioni di euro e da informazioni assunte a fine anno sono arrivati questi 26 milioni di euro alla Regione Molise. Adesso non capiamo cosa c'è alla base, non capiamo il perché le imprese non vengono pagate, di voci ce ne sono tante in giro, si parla di tappare un buco a destra piuttosto che a sinistra di questo bilancio regionale. Noi chiaramente nel merito non vogliamo entrare perché non è il nostro compito, però abbiamo chiesto e abbiamo invitato il Presidente di Fattura a venire in questi giorni in associazione in maniera tale da poter chiarire alle imprese come sta la situazione, ma certamente dare anche delle garanzie affinché questi mandati, questi stati di avanzamento vengono pagati alle imprese. Di qui la decisione con delibera unanime dell'Assemblea dell'ACEM. Di effettuare delle rivalze giuridiche nei confronti delle stazioni appaltanti perché riteniamo di dover coinvolgere anche le stazioni appaltanti, faremo degli atti di diffide messe in mora delle stazioni appaltanti, ogni impresa farà questo. Di riflesso è la Regione, noi non abbiamo un contratto giuridicamente vincolante con la Regione, bensì con il Comune, con il soggetto trattatore, col Presidente del Peu, con le province, insomma, che di riflesso vivono di finanza derivata da parte della Regione. Abbiamo l'impressione che Frattura non sia attento alle richieste più volte avanzate dalla nostra associazione, ha detto Di Niro, né alle reali istanze del territorio. Non vediamo questa attiva partecipazione da parte del Presidente, quindi anche questa volta lo invitiamo in associazione per discutere anche di questo problema. E a Campobasso il Movimento 5 Stelle ha ampliato il raggio della sicurezza a tutti gli edifici pubblici e non solo sulle scuole. La proposta dei consiglieri comunali è quella di destinare un cospicuo finanziamento alla sistemazione antisismica. L'incontro a Palazzo San Giorgio c'era per noi Anna Maria Di Matteo. Lo sciame sismico che nei giorni scorsi ha creato allarme tra i cittadini della provincia di Campobasso ha riproposto il tema della sicurezza degli edifici privati ma soprattutto pubblici. I consiglieri comunali di Campobasso del Movimento 5 Stelle considerano prioritari gli interventi sulle scuole e sulle altre strutture pubbliche tra cui gli ospedali per ridurre quanto più possibile il rischio sismico ma il problema è soprattutto di natura finanziaria occorrono risorse. Non vogliamo fare nessun tipo di strumentalizzazione però dobbiamo decidere una volta e per sempre se vogliamo andare in quella direzione cioè della prevenzione sismica, del rischio sismico. Allora abbiamo chiesto, lo diremo in gran voce, stiamo cercando di interessare sia i parlamentari nazionali che quelli europei per tentare una rimodulazione generale di tutti quei fondi facendo chiaramente delle priorità che riguardano magari opere infrastrutturali che non sono prioritarie. Quindi io mi aspetto perché il problema non è come diceva lei soltanto dell'edilizia scolastica ma anche delle strutture sanitarie, ricordo le condizioni del Cardarelli, ricordo gli edifici strategici ed infine ricordo anche l'edilizia privata. L'edilizia privata è un altro tema da interessare, c'è un provvedimento governativo che va in quella direzione, speriamo come comune nel nostro piccolo di poter dare una mano anche alle imprese edili proprio per questa attività di recupero però chiaramente noi vogliamo come Movimento 5 Stelle partiamo da qui perché l'ultima scossa purtroppo c'è stata qui, vorremmo porre l'attenzione sul governo anche nazionale per andare finalmente in quella direzione e magari abbandonando non so la tangenziale nord sarà chiaramente dispiace però immagino che sia prioritario investire nell'edilizia e nella prevenzione del rischio sismico e non su un'opera che in qualche modo serve a poche persone. In questi giorni tiene banco la vicenda legata alla sicurezza delle scuole della città con il caso delle primarie di Via Crispi e Via D'Amato. È giusto che i genitori si preoccupano e chiedono soluzioni. Quella tampone di questi giorni, parlo di Via Crispi ma non è solo quella l'attenzione, quella tampone di Via Crispi chiaramente è una soluzione che non può durare nel tempo, dieci giorni passeranno e dovremmo poi capire che cosa succederà. Noi quello che chiediamo è che venga realizzato subito un polmone su moduli prefabbricati ad uso didattico che può essere realizzato in pochissimi giorni e ciò consentirebbe il normale proseguo dell'attività didattica senza ulteriori disagi. Noi chiediamo che l'amministrazione riavvii immediatamente i cantieri sospesi senza alcuna ragione evidente di Via Berlinguerri, Via Sant'Antonio e De Lazzari che potrebbero essere portati a termine in pochi mesi e consentirebbero a settembre di riprendere la normale attività didattica in scuole normali. Il giudice dell'udienza preliminare di Campobasso, Roberta Donofrio, ha rinviato a giudizio con l'ipotesi di abuso d'ufficio l'ex governatore Michele Iorio e l'ex assessore Gianfranco Vitaliano. La vicenda è quella della cessione delle quote dello zuccherificio, indagine condotta dal PM Fabio Papa. Dimostreremo l'insussistenza delle accuse, ha dichiarato l'avvocato Arturo Messere. Sentiamo Giovanni Di Tota. L'ex governatore Michele Iorio e l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaliano sono stati rinviati a giudizio per la vicenda della cessione delle quote dello zuccherificio. Per entrambi l'ipotesi dell'abuso d'ufficio, la prima udienza del processo è stata fissata al 13 aprile. Nel corso delle indagini condotte dall'allora sostituto procuratore della Repubblica di Campobasso Fabio Papa, l'accusa ha ritenuto che la regione non abbia esercitato il diritto di prelazione nella cessione delle quote tra gli imprenditori Luigi Tesi e Remo Perna, causando quindi un vantaggio alla società di fatto riconducibile a Perna stesso. L'imputazione di abuso d'ufficio, ha dichiarato l'avvocato Arturo Messere, difensore di Michele Iorio, non ha alcun fondamento né di fatto né di diritto. Indubbiamente, ha aggiunto Messere, la complessità della vicenda ha reso necessario il vaglio dibattimentale e in quella sede ha concluso. Iorio sarà di sicuro assolto. Per l'avvocato Gina Capuano, che rappresenta nella difesa Gianfranco Vitaliano, gli elementi costitutivi del reato sono deboli. Siamo ottimisti, ha detto, e nel processo dimostreremo l'insussistenza delle accuse. La giudice dell'udienza preliminare, Roberta Donofrio, ha rinviato a giudizio anche le altre tre persone coinvolte nella vicenda con le accuse di truffa e falso. L'ex dirigente regionale Elvio Carugno, già condannato per altre vicende relative ad ammanchi per centinaia di migliaia di euro. E poi Vittorio Testa e Antonio Mucciardi, amministratori di società. Dovranno comparire davanti al giudice monocratico il 29 marzo. La posizione dell'imprenditore Remo Perna era già da tempo stata inviata per competenza a Isernia, dove l'udienza preliminare si terrà tra qualche settimana. In relazione alla paventata ipotesi di soppressione della Corte d'Appello di Campobasso ha preso posizione il vicepresidente di Confindustria Molise, Rosario Morelli, secondo il quale la giustizia rappresenta uno dei più importanti diritti umani, uno dei pilastri su cui è fondata una società civile. La posizione geografica dei tribunali, ha aggiunto Morelli, è un elemento fondamentale per l'accesso dei cittadini alla giustizia, è un diritto essenziale insieme ad altri quali la salute, la sicurezza e l'istruzione. L'esponente dell'Associazione Industriale ha quindi espresso a nome di Confindustria Molise la vicinanza al Comitato Promotore per la Salvaguardia della Corte d'Appello, che ha concluso, ben apposto in luce, le conseguenze che tale ipotesi avrebbe sul nostro territorio. Novità in vista per la Galleria di Belmonte del Sannio, chiusa al traffico da quasi nove mesi, ha atteso a giorni il via libera del Ministero alla riprogrammazione di un finanziamento che permetterebbe di dare il via ai lavori di messa in sicurezza, ma i pendolari che ogni giorno sono costretti ad affrontare i percorsi alternativi sembrano avere perso ogni speranza. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Ancora pochi giorni e avremo il via libera dal Ministero delle Infrastrutture per intervenire sulla Galleria di Belmonte del Sannio. La rassicurazione arriva da Lino Mastronardi, l'ex dirigente della provincia di Sernia che oggi collabora con la regione. Sarà la volta buona? Studenti e lavoratori che ogni giorno fanno la spola tra Alto Molise e Abruzzo lo sperano e se lo augurano anche coloro che necessitano di cure all'ospedale Caracciolo o di fare la spesa da Agnone, punto di riferimento per tutti i paesi della zona. I precedenti non sono tuttavia incoraggianti. Nemmeno un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle e l'intervento di striscia alla notizia sono riusciti nell'intento di sbloccare una situazione ai limiti dell'incredibile. Per quel piccolo intervento di messa in sicurezza occorrono poco meno di 200.000 euro, ma tra un palleggio di competenze e l'altro non si riesce ad arrivare al dunque. I primi di dicembre l'assessore regionale alla viabilità, Pier Paolo Nagni, aveva assicurato all'inviato di striscia la notizia che nel giro di un mese il problema sarebbe stato risolto. Di mesi ne sono passati quasi due, ma non si è registrata alcuna novità di rilievo. Noi siamo pronti, ripetono fino alla noia i tecnici dell'ente di via aberta, ma non possiamo assegnare lavori perché prima la regione deve sottoscrivere l'accordo di programma quadro con la relativa copertura finanziaria. La regione, a sua volta, aspetta l'ok del Ministero. A giorni il via libera dovrebbe arrivare, almeno così ha detto Mastronardi, che però pone un'altra questione. A suo avviso il problema riguarda l'intero tratto. Anche la tenuta del viadotto è infatti a serio rischio. Per questo il dirigente si augura che la strada torni a essere gestita dall'ANAS. Un ragionamento condivisibile, ma la priorità ora è rappresentata dalla galleria. Ciò nonostante, a quasi nove mesi dalla sua chiusura, il problema resta incredibilmente irrisolto. Continua la mobilitazione contro il permesso di ricerca del petrolio concesso davanti alle isole Tremiti. La società che l'ha ottenuto è piegata da debiti e rischia il fallimento. Sentiamo. Coordinamenti, associazioni ambientaliste, governatori e parlamentari hanno avviato una battaglia contro il permesso a perforare i fondali marini a largo delle isole Tremiti, concesso dal Ministero a fine dicembre alla Petrol Celtic. La società irlandese già qualche anno fa ci aveva provato ed era stata fermata dai ricorsi. Poi ha ripresentato nuovamente domanda spostando di poco l'area di ricerca, ottenendo di nuovo l'ok dal Ministero, che in cambio chiede meno di 2.000 euro all'anno per i diritti di concessione, poco più di 5 euro per chilometro quadrato. Scontata la polemica che si è sollevata, una vera e propria svendita del nostro mare è stato il commento dei più, ai quali si sono aggiunte le considerazioni sulle stesse condizioni economiche della multinazionale. La concessione estrattiva è stata data alla società Petrol Celtic Italia, controllata da Petrol Celtic International. Società quest'ultima quasi sull'astrico, tra debiti e accuse di frode. C'è uno scoperto di 200 milioni di dollari e la liquidità finirà entro il mese di gennaio. A quanto pare, il giorno dopo la firma del decreto ministeriale, la Petrol Celtic ha già iniziato a cercare potenziali acquirenti del titolo concessorio. Il progetto prevede sondaggi in un'area della ricca biodiversità marina, con tecniche che gli ambientalisti considerano devastanti, come le air gun, esplosioni ad aria compressa dannose per l'ecosistema marino e causa di lesioni ai pesci, con perdita dell'udito e dell'orientamento. Secondo diversi esperti, per esempio, lo spiaggiamento dei capodogli a Punta Penne nel settembre 2014 potrebbe essere stato causato proprio da questa tecnica che produce un rumore fortissimo che spaventa e disorienta i cetacei. La battaglia per fermare tutto è solo all'inizio. La Corte Costituzionale ha pochi giorni fa dichiarato ammissibile il quesito referendario che permetterà ai cittadini di esprimersi per evitare che permessi già accordati entro le 12 miglia dalla costa possano proseguire anche oltre la scadenza. Bisogna però andare avanti e per questo sei regioni, tra cui non compare il Molise, si preparano a proporre un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, che ha bocciato gli altri due referendum sulla proroga delle concessioni e sul piano estrazioni. Un giovane di 24 anni di Termoli è stato arrestato dalla polizia per percosse e lesioni personali gravi. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Larino su richiesta del PM Luca Venturi. L'uomo lo scorso, 21 giugno, aveva aggredito il barista e colpito con un pugno un cliente di un locale sul lungomare nord termolese. Ferendo, quest'ultimo poi al volto con un bicchiere, il 24enne, identificato dai poliziotti del commissariato di Termoli, ha dei precedenti per minaccia grave, rapina impropria in concorso, ma anche spaccio di droga e lesioni personali in concorso con spranghe di ferro e pietre. Secondo il giudice, è persona assolutamente pericolosa. Il giovane ora in carcere a Larino. Il sabato al Pertini, cambiamo argomento, un progetto che l'Istituto Superiore di Campobasso, Sandro Pertini appunto, porta avanti già da qualche anno un modo innovativo di fare formazione protagonista questa volta, Sabrina Lembo, autrice Campobassana, con la sua raccolta di poesie attraverso. Sentiamo Patrizia Testa. Trasformare in versi i pensieri e le emozioni, la poesia, una forma d'arte antica, un modo per leggere ed interpretare la realtà, un mezzo di denuncia sociale, parole in rima per tenere viva la memoria. Il componimento poetico, in tutte le sue sfaccettature, è stato protagonista all'Istituto Sandro Pertini di Campobasso. Sabrina Lembo, poeta e scrittrice Campobassana, ha presentato Attraverso il suo ultimo lavoro, una raccolta di poesie raccontate e recitate in un'aula gremita di ragazzi. La raccolta Attraverso descrive attraverso quattro sezioni delle sensazioni e delle emozioni che provo, guardando e osservando la realtà che mi circonda e attraverso questo gioco di parole, appunto, attraverso, conduco il lettore in una sorta, insomma, di cammino interiore, partendo da dei luoghi circoscritti, a me molto cari, via via per indagare, diciamo, i moti più interiori dell'anima e soffermarsi quindi su dei temi più esistenziali. Quest'iniziativa fa parte di un progetto intrapreso dalla scuola già da qualche anno, che prevede l'abbinamento di un approccio didattico più innovativo a quello classico. La scuola deve essere a passo con i tempi, devono appunto i ragazzi assolutamente ricevere degli stimoli dall'esterno, confrontarsi con la realtà, perché loro saranno cittadini, cittadini futuri, quindi devono sapere com'è fatto il loro mondo, conoscere, spesso noi invitiamo anche persone appunto molisane, campobassane, che appunto hanno avuto poi successo fuori, anche appunto la nostra scrittrice ospite di oggi, Sabrina Lembo, o come è successo qualche settimana fa con un astrofisico di origine molisana che insegna negli Stati Uniti, per far capire che appunto il mondo non è confinato appunto alla nostra scuola, alla nostra città, alla nostra regione, loro dovranno essere cittadini del mondo. Uno spazio tutto dedicato alla letteratura, alla scienza, allo sport, alle canzoni e alla musica, un'offerta formativa che vuole coinvolgere gli studenti utilizzando metodologie meno tradizionali e sviluppando temi di grande rilevanza sociale tra le nuove generazioni. Gestione dello stress e terapia biointegrata, il tema del seminario organizzato per il prossimo sabato pomeriggio a Bagnoli del Trigno, dalle 16 le psicoterapeute Carla Ciamarra e Maria Flora Cocco parleranno di cos'è lo stress soffermandosi su diagnosi e terapia. Il seminario è gratuito su prenotazione presso la Domus Medica di Bagnoli del Trigno. È stato presentato alla stampa il nuovo film di Carlo Verdone, l'abbiamo fatta grossa, che uscirà nei cinema di tutta Italia giovedì 28 gennaio a Napoli. Alla presentazione c'era anche una nostra troupe, il servizio è di Valeria Farina. Un tradimento, un detective, un attore di teatro e una valigia piena di soldi. Un incontro scontro tra Arturo Merlino, Carlo Verdone e Yuri Pelagatti, Antonio Albanese, che avviene tra momenti di suspense, azione noir e tanta comicità. L'abbiamo fatta grossa, è un film che sa di roccambolesco e che rivolge uno sguardo alla società piena di vizi, di fraintendimenti e di problemi, raccontati, nonostante tutto, con un tono ironico e divertente. È una commedia scritta in piena fantasia, cercando di non ricalcare alcune tematiche che avevo fatto negli ultimi film. È un incontro. Io volevo fare un film con un altro bravo attore. Io ho scelto Antonio Albanese come mio partner. È un film dove c'è anche un po' di suspense e soprattutto c'è una grande recitazione tra me e lui. Questo è il punto di forza del film. Una prima volta, quello di Antonio Albanese al fianco di Carlo Verdone, capitata un po' per caso e che da subito ha riscosso grandissimo successo, scoprendo complicità intesa e sintonia perfetta tra i due artisti. È stato dal primo incontro, grazie alla sua disponibilità e la sua umiltà, un incontro piacevolissimo e felice, perché ogni giorno poi potevamo inventare e io potevo con lui, nel suo laboratorio, inventare, sviluppare e nobilitare tutto quello che era stato scritto. Secondo me ci siamo riusciti. È stato talmente gioioso e felice che il mio pensiero è quello di ritornare a bissare questa esperienza. Prodotto dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, l'abbiamo fatta grossa il venticinquesimo lavoro che vede Carlo Verdone nelle vessi di attore, regista e sceneggiatore. Carlo ha scritto una storia fantastica ed era una storia a due, è una storia a due. Quindi a un certo punto lui ha voluto mettersi vicino a un attore così completo, così straordinario, così comico, così autoriale come Antonio Albanese per fare un qualcosa di importante ma che fosse anche di estremamente divertente per il pubblico di tutta Italia. Questo film è un film di coppia, un film straordinario, un film divertentissimo, ci è voluto molto per metterlo in piedi ma crediamo fermamente, mio figlio e Dio, che Carlo Verdone e Antonio Albanese hanno creato una nuova tipologia di coppia fortissima per il cinema. Il film esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia giovedì 28 gennaio. L'abbiamo fatta grossa, fidatevi. Grossissima, ci sarai anche tu comunque. E vi saluto e vi bacio un bel po'. Saluto a tutti. Prima di chiudere un appuntamento del nostro palinzesto, questa sera alle 21 su Telemolise la puntata numero uno di Pitti Uomo, il programma curato da Gigi Di Simio e la replica domani alle 16 e sabato alle 12.40. La seconda puntata invece martedì 2 febbraio alle 21.00. E tutto, termina qui il nostro TG delle 14.00, dopo la sigla le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo intorno alle 15.00 con il nostro TG. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.